Mamma, che senso ha fare una legge contro i crimini d'odio? Non dovrebbe essere automatico punirli? Così mia figlia, 13 anni, l'altro giorno sentendo parlare del disegno di legge ZAN bloccato in Senato. E come non darle ragione? Purtroppo la realtà è ben diversa se si pensa che non solo i crimini d'odio in generale non vengono puniti, ma il disegno di legge in questione, che mira a tutelare le vittime di misoginia, di abilismo e di omotransfobia, non è ancora stato calendarizzato nonostante sia stato approvato alla Camera. La cosa peggiore è che chi lo sta bloccando per ignoranza e paura sta diffondendo notizie completamente false a riguardo, come conferma il sindaco di San Zenone degli Ezzelini Fabio Marin che al nostro microfono lancia un appello. Il mio è un appello perché davvero è ora di dire basta con l'odio, con la discriminazione. Con questa legge si va un po' a mettere il nome a quelle che sono le violenze e le discriminazioni che vengono fatte, proprio perché ci sono i momenti quando una persona commette un delitto e quando quindi viene processata. Lei è mai stata vittima di episodi di odio per quanto concerne proprio il suo orientamento sessuale? Purtroppo ne ho subite tante, sono quelle che forse oggi mi hanno reso più forte, però se magari non ci fossero state sarebbe stato sicuramente meglio e più che altro se ci fosse stata giustizia verso chi mi ha fatto passare veramente dei giorni, delle serate, delle nottate brutti, terribili a causa del mio orientamento sarebbe stato forse tutto più facile per me. Io voglio essere giudicato per le mie competenze, per quello che faccio, non per quello che sono. Diciamo però i miei compaesani sono stati la dimostrazione di questo perché davvero insomma hanno segnato un passo di maturità per il mio paese e anche per il nostro territorio. Io nella mia vita sono stato fortunato perché quando l'ho detto a mio padre lui mi ha detto che l'importante è che io sia felice e questo sarebbe davvero la frase che tutti i genitori dovrebbero dire ai propri figli. E lancia anche un messaggio a tutte quelle persone vittime di violenza e di odio. Qualcuno molto più importante di noi diceva porgi l'altra guancia ed è vero bisogna fare così. Bisogna cercare di far capire alle persone che non la pensano come te, che ti discriminano, che purtroppo rimangono chiusi nella loro ignoranza che siamo diversi da nessuno o forse che la diversità è bellezza e non è di certo qualcosa di cui vergognarsi e per il quale bisogna andarci contro. Essere diversi, essere qualcos'altro arricchisce quello che siamo, colora anche il nostro mondo.